Ciao a tutti e benvenuti a questo video bonus di... Doesn't Matter! Sapevi che? Il 69% delle donne perde l'interesse nei confronti di un uomo se il primo bacio viene dato male. Vai su www.vogue.co.uk e premi velocemente su su, giù giù, sinistra a destra, sinistra a destra, B, A. Spesso l'aroma di vaniglia è ottenuto dall'urina di castoro. L'8 ottobre è la giornata mondiale degli zombie. Topolino e Bugs Bunny hanno una stella sulla Walk of Fame. New York è stata fondata dagli olandesi e inizialmente si chiamava New Amsterdam. Uno studio scientifico ha dimostrato che chi perde la verginità dopo i 19 anni è più acculturato e guadagna di più al lavoro. L'orecchio destro è più efficiente nel sentire le parole, mentre l'orecchio sinistro è più efficiente nel sentire la musica. Le tartarughe sono più vecchie dei dinosauri. Le patatine fritte nacquero nel 1853 per puro caso, perché il cuoco pensava di fare un dispetto al proprio cliente. Il primo presidente dello Zimbabwe veniva chiamato il presidente banana. In America il matrimonio gay è legale in nove stati, mentre fare sesso con un cavallo è legale in 23 stati. Gli antichi egiziani utilizzavano merda di coccodrillo come contraccettivo. Gli scoiattoli dimenticano dove hanno nascosto il 50% delle ghiande. L'82% delle persone credono nella vita dopo la morte. Anche se la sua esistenza è incerta, è illegale uccidere Bigfoot. La sinestesia è una condizione psicologica che permette alle persone di vedere, di annusare e di sentire il sapore della musica. Mmm, che tipo Henry. In media, in 78 anni di vita, si passano tre mesi ad aspettare, quattro anni a pulire e 16 ore di orgasmo. Le iguane sono in grado di suicidarsi volontariamente. I vampiri esistevano già nell'antica Grecia, infatti credevano che le persone di capelli rossi, una volta morte, si trasformassero proprio in vampiri. Ogni secondo 28.258 persone guardano porno su internet. Prima che la TV a colori fosse inventata, la maggior parte delle persone sognava in bianco e nero. Abraham Lincoln, Walt Disney, Bill Gates, Henry Ford, Thomas Edison e Steve Jobs non si sono mai laureati. La regina della Thailandia morì annegata perché ai suoi sudditi era proibito toccarla. L'account Twitter della Corea del Nord è bloccato dall'account Twitter della Corea del Sud. Per spendere tutti i suoi soldi prima di finirli, Bill Gates dovrebbe spendere 7 milioni di dollari al giorno per 35 anni. Ryan Gosling ha partecipato alle audizioni per diventare un membro dei Best Street Boys. Le persone che hanno un nome che comincia per D, come Daniele, hanno una vita statisticamente più breve rispetto alle persone che hanno un iniziale di nome differente. Inconsciamente tendiamo a passeggiare con la nostra ragazza tenendola sulla sinistra perché abbiamo la tavica abitudine di tenere la destra libera per la spada. Inizialmente Google si chiamava Back Rap. Il 10% dei maggiorenni nel mondo è ancora vergine. Le vene delle balene bianche sono talmente grandi che un bambino piccolo di pochi mesi potrebbe nuotarci dentro. Gli asparagi fanno passare le sbronze. Il gelato fu inventato da Alessandro Magno unendo ghiaccio, neve e miele. Ben una donna su 200 ha un capezzolo extra. Vai su soundclick.com e premi velocemente su su, giù giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A. Baffalo, 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 baffalo è una frase di senso compiuto in inglese. Che si traduce in... I bisonti di baffalo che intimidiscono bisonti di baffalo sconcertano i bisonti di baffalo. Contrariamente a ciò che si pensa, le carote fanno male ai conigli. Le persone con più nei tendono a vivere di più rispetto a chi ne ha di meno. Le mucche possono avere un miglior amico e cadono in depressione se vengono separate. Tenerine le mucchine. Il cofondatore di Apple, Ronald Wayne, vendette il suo 10% nel 1976 per 2300 dollari. Oggi varrebbe 58 miliardi di dollari. C'è più eicol nel colluttorio che nel vino. Gli elefanti sono gli unici mammiferi che hanno il mento come gli esseri umani. In Giappone è illegale diventare obesi. Gli squali urinano all'interno della loro pelle. Un uso prolungato di Facebook può causare ansia, depressione, disturbi del sonno e problemi allo stomaco. Possiamo sognare solo persone che abbiamo già visto. Anche se non ce le ricordiamo, il cervello non è in grado di inventare facce nuove. Le zanzare hanno ucciso più persone di tutte le guerre di tutta la storia. Il latte di popotama è rosa. Cleopatra possedeva il primo vibratore. Era un cono pieno di api vive. Le luci delle stelle che stiamo osservando oggi sono state emesse nel 1583. Statisticamente parlando, le donne guidano meglio degli uomini. Dare una mela ad una donna veniva considerata come una proposta di matrimonio nell'antica Grecia. Le possibilità di essere morso da un cane raddoppiano se c'è la luna piena. Viviamo 80.000 secondi nel passato perché questo è il tempo che impiega il cervello ad elaborare le informazioni. Il sito sheetsender.com ti permette di spedire in modo anonimo merda di bucca, elefante, gorilla a chi ti sta antipatico. Il 55% delle persone che leggono la parola sbadiglio, sbadigliano. I videogiochi possono correggere la sindrome dell'occhio pigro. I pulsanti di chiusura e apertura porta degli ascensori, nonostante funzionino, non servono a niente. Servono solo a dare un senso di controllo. Le donne spendono in media un anno nell'intera vita nello scegliere che cosa indossare. Facendo la pipì nella doccia puoi risparmiare 4.000 litri d'acqua all'anno. Le scorreggie viaggiano a 11 km orari. Le zanzare preferiscono mordere le persone che hanno assunto alcol. John Travolta ha rifiutato il ruolo di Forrest Gump. Il record mondiale per il maggior tempo senza sbattere le palpebre è di 30 ore e 12 minuti. Il cuoca è l'animale più felice al mondo. La masturbazione è un ottimo rimedio contro il raffreddore. Vai su www.dig.com e premi velocemente su su giù giù sinistra destra sinistra destra B A. Non è possibile starnutire mentre si dorme. Il primo uomo ad essere sopravvissuto alla caduta dalle cascate del Yagara è morto scivolando sulla buccia di un'arancia. La prima protesi di tette finte è stata testata su di un cane. George Washington coltivava marijuana nel suo giardino. Ci sono più donne con tatuaggi che uomini con tatuaggi. In slang norvegese la parola fox significa marijuana. Eccovi spiegata la canzone. What does the fox say? Il primo sms fu inviato il 3 dicembre del 1992 e conteneva la scritta Buon Natale. Le donne piangono in media tra le 30 e le 64 volte all'anno mentre gli uomini solo 6. Questa è la mia quarta volta. Il 7% degli account Facebook sono stati dedicati a dei cani mentre il 4% gatti. Paul Hahn detiene il record di rutto più rumoroso al mondo. Ben 118 decibel esattamente come un fulmine. Furono dati due Nobel per la pace agli scienziati che scoprirono l'LSD. I delfini torturano le focene fino alla morte solo per puro divertimento. La cacca del wombat è cubica. Vai su www.buzzfeed.com e premi velocemente su su giù giù sinistra destra sinistra destra B A. Le persone con gli occhi blu sono più abili nel vedere al buio. Le ultime parole pronunciate dal signor Jack Daniels prima di morire furono Un ultimo goccio per favore. Bill Gates ha dichiarato che preferisce assumere persone pigre perché sicuramente trovano il modo più rapido e veloce per fare un lavoro. Nel 2009 Lady Gaga spese 1000 dollari di pizza da dare ai suoi fan che erano in coda attendendo il suo autografo. Un tempo in Inghilterra un tentativo fallito di suicidio era punibile con la morte. La storia horror più breve del mondo è L'ultimo uomo della terra è seduto in una stanza quando all'improvviso si sente bussare alla porta. In Ucraina il porno è illegale se non sotto prescrizione medica. Il claim del 1980 della console Siga Genesis era Più giochi più diventa duro. E' più facile ricordare qualcosa scritto con la penna blu piuttosto che con la penna nera. La Diet Coke galleggia nell'acqua. Il principe Eric della Sirenetta è l'unico principe Disney che non canta. La tetta sinistra è più grande della tetta destra perché è più vicina al cuore. La Pixar ha avuto l'idea di fare a Bugs Life, Monster Inc, alla ricerca di Nemo e Wall-E in un unico incontro a pranzo. Nel 1997 Yahoo rifiutò l'offerta di comprare Google per un milione di dollari. Oggi ne vale 200 miliardi. Adriana Lima restò vergine fino a 27 anni, cioè all'età del suo matrimonio. Kevin Di Mammo perso l'aereo è stato pagato 100 mila dollari per il primo film e ben 4 milioni di dollari per il secondo film. La cenosillacafobia è la paura di avere il bicchiere di birra a vuoto. Nel mondo abbiamo speso 1735 miliardi di dollari per le guerre solo nel 2012. Per sradicare tutta la povertà mondiale ne basterebbero solo 195 miliardi. Shakira sa parlare perfettamente in portoghese, spagnolo, inglese, italiano e arabo. Kobe Bryant guadagna 163 dollari al minuto. La statua della libertà inizialmente è stata pensata per l'Egitto. Gli unicorni sono menzionati anche nella Bibbia. La maggior parte delle persone si sveglia di notte alle 3.44. Ogni anno solo negli Stati Uniti muoiono 450 persone per essere cadute dal letto a castello. Abbiamo la capacità naturale di sentire l'odore della paura nel sudore degli altri esseri umani. McDonald's ha un panino segreto chiamato Mac Gang Bang. E un Mac Chicken in mezzo a due cheeseburger. Più sei grasso e più rischi l'infarto. Ma più sei grasso e più hai possibilità di sopravvivere all'infarto. In Cina l'inglese è più parlato che negli Stati Uniti. Non è possibile vivere in totale assenza di suono. Dopo 30 minuti cominceremo ad avere allucinazioni. Una leggenda narra che quando nasciamo piangiamo per la morte della vita precedente. Dormire al lavoro è socialmente accettato in Giappone. Edward Mitchell, il sesto uomo ad aver messo piede sulla luna, ha dichiarato che gli alieni hanno cercato di mettersi in contatto con noi per più volte. Le tartarughe sono in grado di respirare con l'ano. Il primo Paranormal Activity è costato 15.000 dollari ma ne ha incassati 200 milioni. Dopo l'uscita del film Alla ricerca di Nemo, la maggior parte dei bambini ha scaricato nel cesso il proprio pesce per dargli la libertà. Le mosche vomitano sul cibo prima di mangiarlo. Sono abbastanza contenti di mangiare merda. Solo negli Stati Uniti vengono uccisi 500.000 animali ogni ora per soddisfare il bisogno di carne. I bambini cominciano a dire bugia all'età di 4 anni. I biscotti Oreo creano dipendenza esattamente come la cocaina. Nel film Jurassic Park non muoiono né donne né bambini. Sentir pronunciare il tuo nome quando in realtà non ti sta chiamando nessuno è segno che il tuo cervello è sano. La Nutella è composta al 50% da zucchero. La Luna si allontana dalla Terra di 4 cm all'anno. I vegetali congelati mantengono più nutrizionali rispetto a quelli freschi. Nella storia originale di Capuccetto Rosso, Capuccetto Rosso mangia la nonna insieme al lupo. Un ragazzino di 15 anni ha hackerato la NASA causando lo spegnimento dei loro computer per 21 giorni. E subito dopo ha hackerato il Pentagono. Il film Nightmare è stato ispirato da eventi realmente accaduti. La teratofobia e la paura di partorire un mostro. È più facile parlare in pubblico dopo un orgasmo. Gli studi hanno dimostrato che indossare jeans stretti causa danni ai nervi. Facebook possiede il 4% di tutte le foto scattate nella storia dell'umanità. Il film preferito da Obama è Il Padrino. In ogni episodio di South Park c'è un alieno nascosto. Lisa Sparks è la porno star che detiene il maggior numero di incontri sessuali non lo stesso giorno. Ben 919. In Malesia è legale divorziare via SMS. L'ecclesiofobia è la paura di entrare nelle chiese. Se fai una risata finta abbastanza lunga comincerai a ridere per davvero. Bere un bicchiere di salsa di soia può mandarti in coma. Cari ragazzi il video di oggi finisce qui. Se il video ti è piaciuto iscriviti e clicca mi piace. Ti mando tanti cari saluti. Un bacione alla mamma. California. E a venerdì prossimo. Wuuu. Ripeti insieme a me. Eh padre io non so cosa devo dire. Devi solo ripetere quello che dico. Ok. Io Daniele Selvitella. Tu Daniele Selvitella. No. Tu sei Daniele Selvitella. No. Tu sei Daniele Selvitella. Io sono il prete. Io sono il prete. Smettila di ripetere. Smettila di ripetere. Mi aspettavate di perdere 11 a 0 contro il Casal Pustardengo? Ragazzo bene zio. Lì c'ho una velina che mi aspetta pronta ad essere schiacciata sulla mia Lamborghini. E poi sono fottutamente ricco.